Il parco del Vesuvio è stato duramente colpito dai roghi boschivi. Oggi questo luogo è la testa di un mosaico di rinaturalizzazione. Si investe nel capitale naturale, si piantano nuovi alberi. Oggi qui piantiamo mille alberi e vorremmo provare a dare l'esempio per consentire a tutti quanti i nostri clienti di fare altrettanto in tutto il nostro territorio nazionale. La campagna Foresta Italia è una iniziativa forestale che ha lo scopo di andare a tutelare e incrementare il capitale naturale del nostro paese. Lo scorso anno abbiamo piantato 60.000 alberi. L'obiettivo del 2024 è piantarne ancora di più. Le nostre modalità di fare forestazione sono quelle di piantare alberi autoctone, alberi locali e poi prendersene cura. Perché solo in questo modo è possibile garantire la crescita di un ecosistema resiliente e sano. Il Parco Nazionale del Vesuvio è un parco molto antropizzato, forse il più antropizzato d'Italia e pertanto soggetto a rischi incendi. Il Parco Nazionale del Vesuvio e gli altri parchi rappresentano sicuramente un valore aggiunto perché rappresentano una forma di contrasto a quelli che sono i rischi idrogeologici, la lotta ai cambiamenti climatici e danno ossigeno per la nostra vita. Questi sono i cosiddetti servizi ecosistemici, un capitale su cui banche e imprese investono, perché sono i crediti di carbonio, quindi soldi, ma anche opportunità di marketing, in sintesi, impresa e ambiente, che si radicano nel territorio.